La guerra di Attito la sta facendo la Russia, che è con un uomo di 130-140 kg che si è schiantato addosso a un uomo ridotto a 30 kg. Anche semplicemente continuando a gravare addosso all'Ucraina la schianta di questo passo, se non si ferma la guerra. O qualcuno penserà che si arriverà con le armate vittoriose di Mosca. Carlo Calenda, qui siamo arrivati tra l'altro alle ipotesi delle truppe di terra che di nuovo Macron... Per due anni di guerra l'abbiano dimostrato. Macron lo ha ventilato. Questa è una, scusi, glielo dico con franchezza, una gigantesca ipocrisia di chi usa la parola pace, magari non essendo mai stato in Ucraina, non avendo visto la situazione dei primi a desiderare la pace, sono gli ucraini, perché sono andati volontari in guerra, essendo aggrediti da un fascista dittatore, a cui non può levare le armi. Lei può solo, e lo farà in Parlamento europeo contro il suo partito, che dice il posto, potrà solo dire io non le do più all'Ucraina e quindi faccio vincere Putin. Questo può dire. Il resto, quello che lei dice, siccome Putin di quello che lei dice non gli importa assolutamente niente, come rispose a Macron nella prima telefonata immediata che è stata fatta quando ha invaso, gli ha risposto non mi rompere i co, finché non raggiungo i miei obiettivi non mi fermo. E i suoi obiettivi sono avere, secondo la dottrina Bresnev, una Ucraina a sovranità limitata. E dopo quello verrà l'Estonia. Perché lo so? Perché io, dopo la Crimea, come tanti altri, abbiamo sottovalutato quello che era accaduto e abbiamo detto, se sta buono con la Crimea, facciamo finta di nulla. Ve l'ho scritto sul giornale che dirigendo, se stavate sottovalutando queste cose, Carlo Caletti. E adesso quello che lei sta sostenendo è che il popolo che combatte lì per la sua libertà, perché non ci vuole finire tutti i russi, perché i russi gli hanno ammazzato milioni di persone, negli anni ogni famiglia ha avuto un lutto, quello che lei suggerisce come brillante idea per arrivare alla pace contro il suo partito, teoricamente contro il suo gruppo, è quello di disarmarli in modo da far arrivare i russi a chi... Lei Calenda è molto bravo con le parole, poi dà dell'ipocrita a chiunque, ma lei è il giudice supremo... No, no, io dico che la mia opinione è che lei è un'ipocrita. No, lei ha detto...